Allora, vi voglio far vedere una cosa che mi ha mandato Andrea Guaia, che è un amico con cui ho anche collaborato in passato. Tanti anni fa abbiamo fatto anche un evento dal vivo insieme. Andrea Guaia ha fondato insieme a alcuni amici un progetto che si chiama Sciva Produzioni, che si occupa di cinema estremo. Ed è un progetto molto seguito e molto apprezzato. Dopo tanto tempo, dopo tanto lavoro, ha scritto un libro e mi ha fatto il graditissimo piacere di mandarmelo. Si chiama Cinema degli eccessi. Sì, questa è una pubblicità, questa è una pubblicità, questo libro. Cinema degli eccessi, 100 film più estremi della storia del cinema. È una figata. Io vi giuro, non so che sembra una paracolata, vi giuro che questo libro me lo sarei comprato anche da solo. Quindi, caro Andrea, hai perso dei soldi regalandomelo. Però, appunto, hai guadagnato la mia gratitudine perché è veramente una figata. Vi voglio far vedere un po' come è fatto il libro. Intanto è scritto bello grande, così anche chi è anziano come me ci vede. Ho aperto proprio su Aatrox, un film veramente pesante. Ecco, è molto probabile che qui ci siano tantissimi film estremi che io non ho visto, quindi lo userò veramente come guida per cercare anche un po' di andare a scoprire quelli che mi mancano. Tra l'altro qui c'è un nome conosciuto, in più. C'è un'intervista a Domiziano Cristofaro e ci sono un po' di film, insomma. In effetti, sfogliandolo così, molti non li conosco. È illustrato, ci sono un po' di disegni. Vediamo se trovo qualche disegno. C'è questa sezione con, se ti è piaciuto, guarda anche. E ti consiglia un po' di film qua sotto. Consiglia un po' di film simili. È veramente una bomba. C'è anche Razered, giustamente, perché è un film disturbante. Vi lascio il link in descrizione al video per acquistare questo libro. E lo esploreremo anche un po' nelle live, perché mi sembra veramente molto interessante. Grazie mille Eris Edizioni e Andrea Scipa Produzioni per questo bellissimo dono. Grazie mille Eris Edizioni